Floridia Puscher, 36enne, incallito, deve scontare un anno di carcere per reati di droga. Continuano le attività di contrasto allo spazio delle sostanze stupoficenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Siracusa. Nei giorni scorsi i militari della tenenza di Floridia, nel corso di un servizio specificatamente finalizzato al contrasto dello spazio dei stupoficenti, hanno arrestato su ordine dell'autorità giudiziaria un pregiudicato di 36 anni che nel 2016 si era reso responsabile di detenzione di sostanze stupoficenti. Al termine dell'iter giudiziario l'uomo è stato condannato a un anno di carcere. I militari lo hanno rintracciato e tradotto presso la casa circondareale Cavadonna, così come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento definitivo.